Hi guys, ciao ragazzi Allora, oggi voglio toccare Siccome la giornata di pioggia è un buggiosa Vero Marco? Come la tua Trieste Vorrei toccare un argomento Che Marco Igini mi disse una volta Vai a Singapore Che ci sono le ragazze più belle del mondo Ma non è vero No, no, no Vero le belle ragazze Beautiful, beautiful, beautiful Singapore è una bella città Ma stanno con guai male Allora, sono tutte figli di No, no, sono tutti figli di Ah, beautiful, beautiful, beautiful Cioè, allora, qua Secondo me Rocco Avana Ma in fallimento Rocco Avana è un estetista di franco Cioè, perché qua i baffi Cioè, guarda, il tetto Donna baffuta, sempre piaciuta Perché, come si stanno facendo una carruccia Cioè, ragazzi, baffuta Cioè, questi miei, non sono niente Baffuta Ma in the beautiful Possiamo dire Ah, questo è bello Sto perco, che è sto tempio? Un bacio altro tailandese Ah, un bacio tailandese Ah, un bacio tailandese Invece, sembrava la faccia di cazzo Romba io Un italiano Ma a me non mi sa perché non mi piace Tailandese Tutte queste cazze cosa appunto E questo è il bello della thailandia Invece a me piace più le cose tipo Cinesi, giappone, ripetono Templi E a palla, vedi? Sono più per le palle Poi poi sta pieno indiano, capite che british Però qua Cioè, i ragazzi sono troppi Eh, sono troppi Sono anche schifo Ma schifo, è un po' razzista Non vogliamo fare razzisti, però Anzi, ragazzi, colgo l'occasione Tutti quelli che mi conoscono Mi danno da razzista, quindi Vabbè, perché sei del nord, figa Ma è beautiful, beautiful, beautiful Cioè, maglione, questi si Com'è l'isola di Pasqua? Voglio tanto acquisire No, 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 io Zappronto, eh Porca droga, scimione Questi non sono donne Voglio tornare a Hong Kong Sono uomini Cioè, una ricerca D'acqua Possiamo dire, vedi? Le mie ricerche scientifiche Possiamo dire Che il Big Bang è stata una grande cazzata perché la donna l'uomo ha origine dalla scimmia venendo a singapore vero marco possiamo capire abbiamo origine dalla scimmia rocco se mi ascolti che mi vedi non aprire mai un negozio un tuo punto vendita a singapore per tutti quanti hanno un centro estetico ragazzi non venite qua perché non vi falli mai con questo chiudo andiamo a marina bay ma la propa benzina perché è più bello di notte se no andiamo al quartiere indiano di a balambò il vostro stile guru i will see you later